Se hai perso la password della casella di posta a chiocciolanomedominio.istensione, puoi ripristinarla attraverso questa semplice procedura. Ti faccio vedere tra un attimo. Prima di procedere, accertati di aver inserito un indirizzo e-mail di recupero valido. Altrimenti non è possibile reimpostare in autonomia la password della casella di posta, ma occorre contattare l'amministratore dell'account postmaster-nomedominio.istensione. Se hai inserito un indirizzo di recupero validato, collegati alla pagina webmail.aruba.it e poi clicca qui su Password dimenticata. Inserisci l'indirizzo e-mail per il quale desideri reimpostare la password. Spunta la casella Non sono robot e procedi. Controlla l'indirizzo di riferimento della casella al quale viene inviata l'e-mail che contiene il link di reset. In caso la comunicazione non risulti nella posta in arrivo, controlla l'eventuale presenza del messaggio nella posta indesiderata o attendi qualche minuto. Il link contenuto nell'e-mail ha una validità di tre ore e può essere utilizzato una sola volta. Dopo aver cliccato il link, si viene reindirizzati nella pagina dove inserire la nuova password. Rispetta i requisiti di sicurezza indicati qui sotto e clicca sull'icona a forma di occhio se la vuoi ricontrollare. Ripeti la password qui sotto e poi clicca Salva password. Perfetto! La password è stata modificata con successo.